Sette mesi fermi. Ah, è quello che l'avete preso in Olanda? Tutti sono tutti comprati in Olanda perché è un costruttore di questi mezzi olandesi, quindi lo compriamo in Olanda, lo portiamo in Italia e noi matripoliamo in Italia. Pensate che traffico che dobbiamo fare. Questo investimento è tutto di tasca. No, 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 no. Piccolo, trascurabile che rimane fermo per sette mesi, è indecento. Ditta. Il nostro parma è più precisa. La mia erda, vedete. Il rapporto più giù, mi sento ottimo. Il 24, il 11 e il 12, vado giù a Messina. Vedete, cambio completamente elettrico per trasportare nelle città. Beh, comunque con un'autonomia di 200 km passa. Guarda che carico. Vado un attimo al fatto dei dinosauri. Grazie. 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 Grazie.